Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di calendario posturale. Oggi lavoreremo un po' sull'apertura della parte interna delle gambe e per farlo ci avvarremo di una sedia o comunque un supporto. Vi consiglio di mettere magari qualche strato per ammorbidire la sedia dato che ci dovremo mettere la parte interna del ginocchio e altrimenti potrebbe farsi un po' sentire. Quello che andiamo a fare è appoggiare il ginocchio destro sulla sedia e portare il piede sinistro un po' in avanti, 20-30 centimetri in avanti. Quindi la mia gamba sinistra è un po' più avanti rispetto alla destra. Posso appoggiare le mani sul bacino come posso appoggiare una mano sulla coscia e una sul bacino. Quello che andrò a fare sarà piegare un po' il ginocchio sinistro mentre il bacino scende verso il basso andando leggermente a sinistra. Quindi non scende semplicemente in basso ma segue un po' la direzione della gamba sinistra, del ginocchio sinistro. Quindi ci posizioniamo e piano piano scendiamo un pochino. La direzione del bacino è questa. Quindi vado leggermente non tanto in basso quanto in basso, un po' a sinistra. La mia gamba destra è leggermente dietro rispetto alla sinistra. Ampi respiri. Cerco di sentire un po' di apertura nella parte interna della gamba, interna e superiore. se mi serve vi dicevo una mano la posso usare per appoggiarmi sulla coscia che sta tenendo gran parte del peso. e lentamente torniamo in posizione di partenza e si sciolgono un po' le gambe e si cambia la gamba che andremo ad utilizzare. Mi metto di lato così che magari abbiate anche un'altra visione dell'esercizio. Il piede destro abbiamo detto che lo mettiamo un po' più avanti rispetto alla gamba sinistra, all'incirca un 20-30 centimetri. Piego il ginocchio destro e il mio bacino, abbiamo detto, non va proprio in basso, ma va un po' verso sinistra. Rimango in posizione. Ampi respiri. Ricerco un po' di tensione nella parte interna superiore della gamba sinistra. e piano 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 torno in posizione di partenza e poi sciolgo bene le gambe. Andremo a ripetere l'una e l'altra gamba, quindi forza e coraggio, ginocchio destro sulla sedia, gamba sinistra un passettino più avanti rispetto alla destra, piego il ginocchio sinistro e nel frattempo il mio bacino se ne va un pochino verso sinistra. Ampi respiri. E' l'altra gamba. e lentamente usciamo dalla posizione, se serve si scuotono un po' le gambe. ultimo round, ginocchio sinistro sulla sedia, faccio un passettino in avanti con il piede destro, piego il ginocchio destro e spingo leggermente il bacino verso sinistra. Ampi respiri. Ampi respiri. Ampi respiri. mi dedico maggiormente alla respirazione piano piano si torna in posizione di partenza si sciolgono bene le gambe ed anche per oggi la nostra lezione è terminata noi dunque ci diamo appuntamento a domani per una nuova lezione grazie a tutti